Vedremo con questo semplice circuito, proprio molto semplice, il funzionamento del sensore di temperatura TMP36, questo che vediamo qui. L'aspetto è simile ad un transistor. Vediamo che ha tre piedini, quelli estremi, questo in particolare dove c'è il mouse è collegato al positivo dell'alimentazione, quest'altro è collegato tramite il filo nero al negativo dell'alimentazione e il centrale è la tensione di uscita ed è collegato al multimetro che ci farà vedere la tensione al variare della temperatura. Per simulare la variazione di temperatura dobbiamo fare clic sul componente e muovere il cursore. In questo momento abbiamo una temperatura di 15 gradi e in corrispondenza di questi 15 gradi il sensore ci fornisce una tensione di uscita di 649 millivolt. Per capire bene il funzionamento proviamo a tracciare il grafico della caratteristica di uscita del sensore andando a compilare prima una tabella su Excel e poi ci faremo fare il grafico. Quindi dobbiamo scrivere intanto questa coppia di valori 15 gradi 649 millivolt. Allora 15 gradi 649 millivolt. Facciamo un'altra misura sia pure virtuale, facciamo scendere la temperatura e in questo momento siamo a meno 16 per 350 millivolt. Quindi meno 16, 350 millivolt. Facciamone un'altra, altre due. Qua siamo a 46 gradi 969 millivolt. 46969. 46969. Facciamo l'ultima, ma per fare le cose per bene bisognerebbe farne qualcuna in più, ma insomma per brevità ci accontentiamo. 80 gradi 1.30. Allora 80 gradi, siccome qua siamo in millivolt, dobbiamo scrivere 1300. A questo punto per avere il diagramma su Excel selezioniamo queste due colonne, scegliamo da inserisci grafico a dispersione ed ecco qua che abbiamo ottenuto la caratteristica di uscita del sensore.